Maggio, non è più selvaggio, è l'offione, non c'è l'offione, a te che è l'offione selvaggio, no, allora, quindi ti concedo questo messaggio, ti auguro questo messaggio veramente, fatti una cosa, è tanto in realtà, perché da Reggio Emilia hai fatto tanti chilometri nell'aspettativa di incontrare un pie contese, magari facoltoso, con del tipo di sprufio, questa bella donna, tu spieghi del tipo di sprufio, lui è facoltoso, non è facoltoso, allora benissimo, ok? Grazie